Salve, lezione numero 4 di dizione, le regole della E aperta, dalla regola numero 11, terminazioni in eno, a, i, e. Esempio. Ebbene, gene, bene, rene, scena, sirena, treno, arena, anfiteatro, arena nel senso di anfiteatro. Eccezioni, altalena, arcobaleno, appena, arena, spiaggia, avena, balena, cena, freno, pena, vena, meno, veleno, sereno, eccetera. Regola numero 12. Terminazioni in emo, a, i, e. Esempio. Boemo, crema, edema, fonema, schema, poema, tema, componimento. Eccezioni. Seme, scemo, tema, paura. Le forme verbali del verbo temere. Io temo, tu temi. Le forme persona, la prima persona plurale del futuro dei verbi. Daremo, faremo. 13. Terminazioni in enso, a, i, e. Esempio. Condensa, dispensa, forense, incenso, penso, senso. 14. Terminazioni in ente, ento, enta, enti. Esempio. Aderente, accento, agrigento, argento, attento, cadente, dente, centro, lento, mente. Nel senso di mentire, niente, sento, vento. Eccezioni. Mente, intelligenza. Mento, parte del viso. Lamenta, trenta. Semente, venti, numero. Commento, bastimento, legamento, pavimento, amabilmente, legalmente, gentilmente, barbaramente. 15. Terminazioni in enso, a, i, e. Esempio. Carenza, cosenza, fiorenze, firenze, movenza, presenza, senza, utenza, violenza, urgenza, sentenza. Regola numero 16. Terminazioni in errimo. Errimo, esempio acerrimo, celeberrimo, miserrimo. 17. Terminazioni in erto, a, i, e. Esempio. Aperto, alberto, coperto, deserto, certo, offerto, roberto, eccetera. 18. Terminazioni in ervo, ervo, a, i, e. Esempio. Cervo, conserva, serva, osservo. Per oggi vi saluto, alla prossima lezione, dalla regola 19. Arrivederci, un bacio da Fabio.